Andiamo? Allora Ivan, come ti stai riprendendo da questa interventa giornata? No, è bene, molto bene. Ho già iniziato la terapia da una settimana e procede alla grande. Ringrazio il professor Pasquale che ha seguito l'intervento, che è uscito alla perfezione. Questa stagione è stata molto positiva, anche se alla fine ci aspettavano i piloti migliori. La sua stagione personale è stata molto positiva. Sì, sia la mia personale ma anche di squadra. C'è stata molto positiva perché comunque sia una squadra nuova, staff nuovo e società nuova, credo che siamo comunque arrivati ai playoff, quindi abbiamo fatto secondo me una buona stagione. C'è stato un po' di rammario per riuscire a correre dopo? C'è stato sicuramente perché comunque le cose che succede dopo ti fa pensare un po', però siamo contenti della prestazione fatta anche in quella partita e dovrebbe essere da spunto per iniziare la prossima stagione. Appunto, guardando già la prossima stagione, indipendentemente da dove ci troveremo a seguire tutto quello che sta accadendo, il presidente Bellini però ha fatto una dichiarazione che appunto non ci possiamo fidare, comprerà un top player, diciamo, in data della categoria per ogni loro. Ma ha detto che comunque sia farà una grande squadra, quindi sia se saremo in Lega Pro o in Serie B. Secondo te quale potrebbe essere il ritiro? Non lo so, noi per ora inizieremo la stagione pensando di dover vincere il campionato di Lega Pro, poi se sarà Serie B o benvenga, però cerchiamo di iniziare pensando di fare la Lega Pro.